Siamo in presenza dell'assessore Ranieri, qual è stata la sua impressione sul nuovo negozio della Feltrinelli? È bella, è grande, mi pare insomma noi abbiamo il Genova-Sampdori in testa alla classifica, adesso abbiamo anche Megastor Feltrinelli, dicono tra i più belli e i più grandi d'Italia. E' bello che a Genova si senta l'esigenza di investire in libri e lettura, del resto Genova è una città che legge, è una città in cui il consumo culturale è alto e non a caso la Feltrinelli fa qua un investimento che non ha fatto in nessun'altra grande città d'Italia, c'è evidentemente un mercato ma in questo caso il mercato è cultura, è sapere e questo mi fa particolarmente piacere. Sì, la mia impressione è bellissima, anche perché ho ancora in mente come era organizzato questo spazio prima, quindi sono un po' stupita e veramente meravigliata di come sia stato possibile fare un intervento architettonico che recuperi in questo modo lo spazio. Questa organizzazione è sinuosa, è un invito alla circolazione delle idee e quindi anche delle relazioni fra persone. Imparerò a frequentarlo, certo ora non saprei dove trovare i libri, questo mi mette un po' d'ansia rispetto alla sede precedente dove invece andava occhi chiusi. Lei pensa un po' la mia commozione, negli anni 70 ho benedetto la prima sede della Feltrinelli a Genova, in via Benza, cioè vicino di fronte alla piazza annunziata, che era un buco, un buco, tant'è vero che aveva l'onore di essere invitata a benedire, mentre la direzione aveva chiesto il cardinale di allora, il direttore che era veramente un giovane, che è qui adesso, basta trovarlo, adesso è in pensione, vieni tu, vieni tu, ecco, quindi io come avevo lanciato questa, ai miei ragazzi della comunità continuavano a dire, se voi leggete io vado a rubare i libri, era una frase che, tant'è vero che quando entrava da Feltrinelli gridavano, attenti ai commesi, guardi Don Gallo ruba i libri, ora qui avrò più spazio, cioè poi me le regalavano per i ragazzi, cioè la cultura, secondo me è un segno, qui c'è il sindaco, è un segno che la città non è vero che sta morendo, anche se continuano a dire che siamo vecchi, io ho 81 anni, è che non è vero, i vecchi anzi hanno la possibilità di lanciare i giovani, cioè come un testimonio, secondo me è un segno della rinascita della città, è un appello a tutte le donne, e gli uomini di buona volontà che questa città veramente ha un ruolo molto importante, sia col porto militare e culturale. Mi sembra una cosa molto importante, soprattutto anche per Genova, un grande getto di generosità e di sensibilità sociale per Genova, che mi sembra veramente straordinario, in questo momento, in che tutto il mondo cerca di evitare, di fare investimento politico o culturale, è fantastico. Cosa pensa dell'abbinamento libri, cd, dvd, dell'unire sia Feltrinelli che Ricordi? Questo è molto importante, perché quando più vasto siano l'interesse che una libreria di questo tipo offre, meglio. E è andato a curiosare se ci sono le sue opere? Relativamente poco, perché non c'era posto, non c'era il tempo, neanche la possibilità fisica, è tanta la gente. Dopo lo trovo admirevole come reagisce in Genovese a queste imprese, che è formidabile, che è venuto in massa, che dimostra che ancora una volta esiste sensibilità e interesse per le cose della cultura. Ora, va bene, Feltrinelli già ci hanno abituati molto bene, quindi io conosco bene quella di Milano in Piazza Piemonte, che già a suo tempo fece veramente scalpore, in pressione, e questa è un po' sulla falsariga, ma non l'ho ancora visitato tutto. Sono arrivata da poco, però promette molto, penso che sia, così mi dicevano, addirittura il più grande in Europa, quindi... È un bel vanto per Genova, io direi. È già andato a curiosare l'angolo dedicato a Fabrizio De Andrè? No, ancora no, me l'hanno rivelato. Sarà ancora una sorpresa? Una sorpresa, no, o forse va inaugurato ancora, non lo so, insomma io sono qui a disposizione, vediamo cosa succederà, ma sono molto curiosa e molto commossa, e veramente è un grande regalo che hanno fatto Fabrizio questo, sì. Perfetto, grazie mille. Qual è stata la sua prima impressione del nuovo Megastore, la Feltrinelli? Direi molto, molto bello, grande, spazioso e direi molto fornito.